Sono qui su 3DEXPERIENCE, sono su Xshape ed ho importato, ho creato la mia parte ed ho importato un'immagine, ok? Il problema di questo è che se io vado a rimodificare la subdivision, dunque clicco qua e faccio così, ok, vediamo che quando entra, l'immagine non si vede ed è logico perché nella storia è il papà precedente diciamo all'immagine, a questo punto per una che usa soldi basterebbe tirare su la cosa, vediamo, però e ce la facciamo anche, dunque anche con Xdesign e dunque vado qui una volta, faccio così ed ho spostato la picture sopra, dunque adesso andiamo a vedere se funziona, dunque vado a modificare la funzione e a questo punto posso lavorare avendo sotto l'immagine, dunque si può spostare l'immagine avanti e indietro come uno vuole, spero di essere stato chiaro, ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.